Sono qui per ricordarvi che da anni mi batto e ci battiamo noi di Forza Italia per difendere gli animali e i loro diritti. Sono i nostri compagni di viaggio su questo pianeta, sono i nostri compagni di vita nelle nostre case, non hanno voce ma possono sentire e soffrire come noi e meritano di essere tutelati. Su questo mantiamo un primato incontestabile. In Parlamento ci sono più di 50 proposte di legge di Forza Italia in favore degli animali e dei milioni di cittadini che convivono con i loro amici a quattro zampe. Le nostre non sono come quelle degli altri promesse elettorali, non sono una trovata dell'ultima ora, ma un capitolo stabile e fondamentale del nostro programma. A cominciare dall'inaspiramento delle pene per chi uccide o maltratta un animale. Con i governi di centrodestra nel 2004 abbiamo elevato al rango di reati, di delitti, con pene conseguentemente più seguere, i comportamenti contro gli animali, comportamenti che prima erano solo contravvenzionali come le uccisioni e il maltrattamento di animali, le manifestazioni e gli spettacoli di lotte tra gli animali che comportino se vizie per loro. Ricordo ancora perché è importante i combattimenti tra animali, noi l'abbiamo assolutamente vietato. Nel 2010 abbiamo anche aumentato le pene per la loro uccisione e il loro maltrattamento. Abbiamo introdotto il reato di traffico illecito di animali da compagnia. È stata la base per contrastare l'odiosa tratta di cuccioli che vengono dall'estero. Con la nostra riforma del codice stradale che ha ridotto del 50% le vittime di incidenti sulle strade abbiamo anche introdotto l'obbligo per l'automobilista di soccorrere gli animali feriti. Il mio impegno quindi nell'Europarlamento in Europa sarà coerente con quanto abbiamo già fatto e stiamo facendo a livello nazionale per gli animali in accordo con i nostri concittadini che amano gli animali e li considerano membri della loro famiglia. Aiutateci ad aiutarli. Votate Forza Italia e ricordatevi occorre scrivere sulla scheda anche il mio nome. Lo sapete? Perlusconi.